Siamo qui oggi con Riccardo Cerza, rieletto segretario generale della CISL Toscana per parlare di lavoro, di occupazione, di giovani e anche di crisi che purtroppo ancora sembra non abbandonarci in questa Toscana. Iniziamo da questa rielezione, nel 2009 la sua prima elezione, sono passati 8 anni, altri 4 saranno di lavoro, che Toscana ha trovato nel 2009 che Toscana vede oggi e quale Toscana spera di vedere fra 4 anni? A me mi è toccato la Toscana della crisi, della crisi nera, perché appena arrivato la Toscana si è trovata in piena crisi, perché la crisi è scappata nel 2008, però poi nel territorio è arrivata un anno o due anni dopo, quindi una Toscana in piena, piena crisi e quindi dove le aziende chiudevano le persone perdevano il lavoro e non lo ritrovavano, quindi una situazione veramente brutta, molto brutta, anche se c'è da dire che la Toscana ha retto meglio di altre regioni, l'ha risi, perché per fortuna nostra abbiamo grandi aziende esportarrici e l'esportazione, specialmente nei beni di lusso, ha retto, quindi sicuramente abbiamo avuto un periodo molto brutto, primi anni, però alleviati dall'esportazione che ha permesso a non so che la Toscana di rimanere a lavorare e anche poi di ripartire, perché la fortuna grossa e tutto il nostro sforzo è stato quello di non disperdere le aziende e i lavoratori che con loro portavano la grande professionalità, se noi facevamo una scelta diversa, ahimè distruggevamo tutto il territorio fatto da media e piccole aziende in Toscana. E adesso la situazione qual è in questo momento? In questo momento, l'ho detto anche in relazione, la crisi nera non c'è più, non si va più in giù, il problema è che non si risale nemmeno, siamo fermi, stagnazione, noi abbiamo perso rispetto al 2008, abbiamo ancora 90 mila disoccupati, dicono di in più rispetto al 2008, quindi dobbiamo per forza cosa riuscire a far ripartire l'economia, a far ripartire la domanda interna e a ricreare lavoro, non per nulla il nostro congresso era basato su persone del lavoro, due valori fondamentali per la società, cosa ahimè di questi valori ne parlano sempre meno un po' tutti. Di cosa ha bisogno la Toscana per invertire questa tendenza? La Toscana ha bisogno di politiche per il lavoro, ha bisogno di una lotta all'immobilismo, ha bisogno di una lotta alla rendita in maniera che il lavoro venga privilegiato sulla rendita, la Toscana è una terra bellissima, una terra che il nostro Signore ci ha regalato nella sua bellezza artistica e naturalistica, fatta dall'uomo e quindi però non ci possiamo fermare e vivere solo di rendita, perché la rendita vive per poche persone e dà frutti a pochissime persone, quindi invece il lavoro è un'altra cosa, il lavoro è dignità, dignità di un progetto di vita per tanti, dignità di ricchezza per tanti, quindi noi bisogna rimpostare delle politiche di crescita che vadano a incrementare il lavoro in Toscana e facciano sì che nel lavoro si ritrovi tutti i toscani, specialmente quelli che sono fuori dal mondo del lavoro. La Toscana ha bisogno anche di infrastrutture però? Ha bisogno di infrastrutture, perché senza infrastrutture in questa società moderna non si va avanti, le infrastrutture non vanno fatte dopo, vanno fatte prima, se si può intercettare gli investimenti e i soldi che ce ne è tantissimi in giro per il mondo bisogna essere un territorio appetibile, un territorio dove le infrastrutture materiali e materiali siano al top, invece in Toscana le infrastrutture molte volte non si fanno, si discute tanto, c'è la rendita che blocca tutto, molte volte per colpa anche nostra dei nostri campanilismi non si riesce ad andare avanti sul lavoro. Quindi meno campanilismi per quanto riguarda gli enti locali, le persone anche, si dice sempre non nel mio giardino quando si può fare qualcosa, purtroppo, sia i comuni ma anche le persone stesse, le associazioni, gli ambientalisti. Molte volte si rimane bloccati per dei comitati di 10-15 persone che poi alla fine si vede che delle volte lottano per il proprio torno a conto e basta, non per il bene e la comunità. Quindi io dico facciamole le cose, facciamole bene come le abbiamo sempre fatte in Toscana, perché proprio in Toscana esplorazioni brutte non ci sono, riprendiamo la nostra storia, la nostra storia è fatta da un territorio plasmato dall'uomo, fatto dall'uomo, perché la Toscana bella l'ha fatta l'uomo, quindi continuiamo a farla bella la Toscana attraverso il lavoro dell'uomo. Quindi cose fatte bene, fatte belle, cose che servano all'uomo, non che sono solo di bellezza e basta. C'è bisogno anche di un'amministrazione regionale che dia un impulso a questo, c'è stato anche uno screzio dopo l'assemblea, lei ha richiamato il presidente dicendogli che c'è bisogno di un presidente che amministri la Toscana, forse in questo momento un po' distratto dalle vicende politiche nazionali. Sì, ho solo detto in relazione che il nostro governatore deve rimanere concentrato sulla Toscana, noi abbiamo bisogno di una politica concentrata tutta sulla Toscana e quindi chi ha preso l'onere di governare la Toscana e quindi il governatore rosso ha preso il voto di tanti tanti cittadini ha il dovere di concentrarsi con tutte le proprie risorse sulla Toscana, perché c'è bisogno di crescere, c'è bisogno di fare politiche che rimettono in moto la Toscana in maniera veloce e quindi il mio richiamo forte è stato quello, il governatore ritorna a concentrarti sulla Toscana e non ti fare distrarre dalle sirene della politica romana. Spesso si mette in discussione anche il ruolo stesso del sindacato, spesso si fanno degli attacchi anche gratuiti, qualche volta magari anche con una base di fondamento. Durante l'assemblea ha richiamato la frase del Papa che diceva che la Chiesa deve essere ospedale d'accampo, in questo momento di grande difficoltà e il sindacato ha detto deve essere ospedale d'accampo per quanto riguarda il lavoro. Ma certo, io ho richiamato la frase di Santo Parre che logicamente lui la riferisce alla Chiesa, io l'ho declinata verso noi, verso la Cise, verso il sindacato, noi dobbiamo essere in ospedale d'accampo perché il sindacato ha fatto bene il suo lavoro, ha tutelato e sta tutelando bene i lavoratori che lavorano. Noi bisogna essere ospedali d'accampo perché quelli non lavorano, quindi noi bisogna essere un sindacato inclusivo che faccia venire da noi tutte le persone che hanno tante difficoltà a cercare lavoro e quindi molti giovani, perché anche in Toscana abbiamo territorio del 50% di disoccupazione, tutti disoccupati di lungo corso, tutti gli sfiduciati, quindi noi dobbiamo essere veramente un ospedale d'accampo per ridare la speranza a queste persone di rimpegnarsi in un percorso dove si vada a trovare lavoro. Noi bisogna allontanare la demagogia che molti richiamano anche in questi giorni qualche forza politica di reddito di cittadinanza, io non sono convinto il reddito di cittadinanza, mi piace più il lavoro di cittadinanza, quindi c'è bisogno di rimettere al centro, come dicevo prima, il lavoro e la persona. Non più il reddito per tutti, ma più il lavoro. Più il lavoro, cioè il lavoro a tutti, il lavoro a cittadinanza, perché la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, quindi noi bisogna ritrovare le condizioni affinché tutti i cittadini abbiano lavoro. Il sindacato stesso si è rinnovato molto in questi anni, anche in Toscana, la CISL ha affrontato un periodo di rinnovamento, anche di razionalizzazione. Sì, noi abbiamo fatto un periodo di razionalizzazione a livello organizzativo e abbiamo fatto anche una grande opera di trasparenza. Con questa segretaria generale, Anna Maria Furlan, abbiamo affrontato un problema che avevamo, anche il sindacato era diventato troppo elefantico, burocratizzato, quindi abbiamo snellito e abbiamo cercato di dare trasparenza a tutte le risorse interne al nostro tesseramento, perché noi non possiamo andare a accusare gli altri, la politica in primis, quando poi noi non siamo, logicamente, degli angeli con la veste bianca. Quindi anche su questo abbiamo lavorato molto, non per nulla i nostri redditi sono online sui nostri siti, di tutta la dirigenza, abbiamo delle regole ferre, regole ferre per l'alternanza dei dirigenti e quant'altro. Anche sul tesseramento siamo quel che siamo, quindi in Toscana siamo 231 mila, sono tutte persone e pensionati, lavoratori e pensionati con il proprio nome e cognome e codice fiscale. In questi nuovi 4 anni che ha davanti non sarà da solo, c'è una segreteria regionale dove è stato confermato Ciro Recce, ma c'è anche una novità. Sì c'è una novità, Ciro Recce è il mio segretario raggiunto che continua a lavorare con me come in questi 8 anni abbiamo lavorato insieme, è entrata una nuova donna, una signora molto giovane, una ricerca ricce che già lavorava da noi nel nostro istituto di ricerche, Francesca Ricci su cui ho molte molte aspettative perché sono sicuro che sarà una donna che farà bene. Al sindacato fa bene le donne perché le donne danno concretezza, lo sappiamo tutti anche le nostre case, le donne sono grandi lavorarrici, le persone riescono a lavorare molto, a fare tante cose insieme, cose che molte volte noi non riusciamo perché ci concentriamo solo su una cosa, quindi faccio tanti gli auguri di buon lavoro a Francesca Ricci. E anche noi facciamo gli auguri di buon lavoro a tutta la segretaria, Riccardo Cerzo per questi 4 anni che ha davanti. Grazie a voi e grazie a vostri telespettatori. L'appuntamento è alla prossima puntata.